Musica Musica Ma porca miseria Ma puoi essere mai che hai a combattere con te? Io pazzo Nesco Tutto pazzo non lo sape chi ci vuole per farlo accettare proprio E già, ma io chi ci interessa? Ci interessa solo che stiamo accettando Chi hanno il barracato? Capivano? Da uca e cacopo l'antaraccio Ma così come stai pensando a te? Ma così ci rompi con noi Non so se mi fai che ci stai facendo Don Camillo Don Camillo Don Camillo Chi se ce l'ha recombinato capito? Ah? Gesù Cristo Susetta Guarda se Susetta Dice che vuoi? Ho fatto il peggio che stasera si n'esce Ti faccio spoluzziare la cazzo come le ardino padovano Ma perché? Così non sogno bella? Si? Si vede con un giro di altarezza Ma guarda che è avrezzo questo caccio di Cantarano Sì, sì, sì Ma tu vitteggiante Te questo caccio di Cantarano Cia posata a biancheria niente ma Su diarci Su diarci Vai a vedere che tu pui Tu hai permesso? No Il signor permesso non c'è sta facendo la piazza, fin l'ora di Dio, non cammino, oh Gesù Cristo, già siete, già siete, questa casa c'è, ma non manca la gentilezza, Rosiglia, ho fatto l'uva d'occhio e finisci a te che non cammino. No, no, non vi disturbate signora Rosiglia, per ora non posso mangiare, la mia panza è come un orologio a pendolo, da quando lo pinnacchio non si muove giusto, l'orario spazio, non so che vi spiego. Ma come volete voi? Ma sono da dire, io sono venuto per le seggie. Ah, le seggie, le seggie sono quasi tutti pronti, l'anno che sta a cagare non si può curare, non vedete come è purrita, non cammino. Come? La seggia di mia moglie, è conosce sempre voi. Sì, ci facete la seggia nuova, no? Tanto voi, voi potete permettere? No, no, un cangio vecchio a Panova dove vai e si trova una cittadina. E allora facciate l'aspetta del cane, non cammino, è sicuro che qui non avrà, male che va si può rompere le carine proprio. Non cammino, non cammino, in questa casa che sono venuto l'anni cerito, presto, presto. Anni cerito? E perché? Che ci pigliate? Poi, a pescare la terapia, stico, e un giorno ci si è andato a un cane, già vittorino. Poi, mi dava una tramata e si si andava in terra con un sacco di patate. Io ho cerchia di così, la macchina appena ne aveva la luce, si si andava a rire. E allora tu che facisci? Il piso pari che ha niente piso, basta andare con le corte perché lui è piso. Agli appaio tu si faccia e ci torna. E se metti la mano che hai già in mezzo, è vero? E tu che la fai, non cammino. Ci lasciavi fino a quando tornava io. Listo? Era colpo di mio. Permettetevi, vado a verificare. Grazie. 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 Mi sentiteci, mi viene da mi scelire pure a mia. Oh, mi sono depesionata. Da sta canta, i tu ci dà un pavolo davanti e davanti. E manco me ne accorgi. Ma che è meglio a me, è davvero dito. Papà, papà. Grazie. 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 Take a me. Oggi la maestra scola fu in un altro bai. Mi dico, da ogni bode che prendendo il problema e prendete un lavore. E qualche giorno, vuole di carrucci ai miei genitori Tante protestanti. Ci capire! Ci capire! Si, si, ci capire. Ma così è evidente questa maestra che mi ha lezio carrucci. Si, ma il frino vuole bene come una centrufa per la nuova. Che bello. Grazie. Grazie. Santino. Che vuoi? Ma tutti ci potessi seggetto un cammino? Domenico, tu pensa a scopare la casa? Che i sedici ci pensiamo, va bene? Si, disgraziate, la pantanetta mia è fidato caruso, che ci pensa? Oggi sono nato i quattro fami spicciate davanti. Ce ne sono quattro giusti giusti, due stasera, e due per domani a mezziorno e l'auciorna che mangiamo. Ma pensa oggi, che domani ci pensa a Dio. Sareatelo che è fresco il cane, cosa di pigliare la mezzicuna? Oh! Che lì lontano stia ancora affamata, sai? Stai a giusti il punto, mi spavore, tenetemi la grasa. Chiama il vino e dice che è delicato. E lui! Che vuoi mamma? E lui, boccata, quattro salti salati. E ci dice, ha un po' di ara che mette il dolmuto sotto. Va bene. Oggi vi faccio canciare e mangiare. Se contenta oggi. Che vuoi! Non sai come rendono i nostri due uzzi? Che ho? I due uzzi? Sì, bravetti. Due uzzi, due gemelli! Beh, se c'è, ha due a due gemelli. E sei caraveva! Maria! Maria! Che composione! Ora fuoco, da te! Da te! E fuori! Non fai una parola di seggi che ti dà! Diciste seggi? Ma tu sei pazza! Tu dici seggi! Ma hai fustato dopo il mare in sola! La facchina! Uncchia! E io ce la faccio! Mi fa la faccenda con prima e dopo! Eh sì! Ma tu hai sentito la cottonina che c'è sopra il resto degli rossi? No! La cottonina! Eh! I seggi! Eh! Tante negozi! Da con mare in sola! Uncchia! Uncchia che nonosti c' negative tagliate, ragazzi! Da con mare in sola! Uncchia che me la sopra il mio cane, una in corda! Da con mare in sola! Uncchia che mi fosti un cascaladio dentro dello sopra! Se mandarti il baciacchotola a cottonina di tua con mare in sola D�onleci! Mamma zajmaha! Che bello occasionalo del mare split grollo! domani attenzione la sera è tutto il ciavero ah, non si vede un pezzo del pago Maria che vuole affittare Maria come scattata la sera ammazzazzata un'altra sera un'altra sera papassuta non pensiamo non vuole stare così il ciavero si spaffaio buona la maestra ma io ci hai messo il ruocato non aveva figlio questa maestra che aveva messo a mio figlio oh, scovaretto mio buonasera signorina, incomodatevi incomodatevi sono veramente onorata di averla andata a mia casa piacere stava la Gaetano fu andata molto bene mi appena ho commettato di venire personalmente a casa per dirle che avete un figlio tanto ma tanto bravo eh ha preso tutto da sua parte signorina onestamente prima di stamparlo mi sogno concentrato mio figlio sarà qualcuno eh lo penso anche è vero l'eruto papà a tutti e propria signorina quando cresci lei è a fare tutto lei è a vestiti con cravatta e gilet e il talumrazio distintamente porterà una valigetta e l'ombrella è un giorno all'occhiello i cristiani con gongolo ci hanno a fare un saluto tal alta freganda con cianterra è vero l'eruto è accomodate signorina minuto vedi la sedia sulle navi si sembra solo di un baccalato oh come c'è l'eruto ho notato che in Sicilia siete molto spontanei dappertutto trovo gente ricordiato passaggi meravigliosi certe volte mi fanno sognare comunque sono contenta di essere venuto signor Tava però peccato che io abbia un piccolo problema l'abitazione non sono ancora riuscita a trovare una stanzetta che faccia al caso mio ma signorina questo problema glielo risolvo io no potemo vedere potemo vedere comunque in questa casa troverà tutta la calmeria pezza più cordese oh lei è veramente fraterna con me gliene sarebbe immensamente grata propria che stuolo un po' e gli piace come stia signorina veramente non avevamo tanto spazio in questa casa siamo usciti oh non si preoccupi troverò sempre un posticino che faccia per me più piccolo e poi pensano torriero meglio ci sto mamma mamma ci guettiamo di maticano ma compromise ma è però constructive sicuro siano ma you odiù è dolcis m critico vi faccio mettere in calore vi faccio un ristorante da dì ora mi vanno a nascere no, vi stasera non te ne sce più che papà vai a un stupendo e ti va dare una bella e a gina e tu apparecchia a tavola in onore della signora maestra marciamo, marciamo perciò signorina che mi dici ma che cosa vedi o mi sentite buona ma perchè mi è tagliata così non so, lei ha qualcosa in comune con tuo figlio che però non riesco a definire forse il sorriso forse quello sguardo tenero ma penetrante non so, sono contenta però di essere bellissima oh signorina signorina sti parola non me le ha detto mai nulla sogno con un mozzo signorina voi siete duce siete in pezza siete un cucchetto di carbonetti ah, certe volte mi pare che sogno un cantante signorina voi avete non vedi a parlare non vedi a voi insomma signorina siete un po' bontà di lucido che sta più inizia che sta più inizia a scuola fa cangiare le persone eh, certo che essere suite è una cosa ah il mondo si figlia con le mano e l'occhio ci vede a me sta spesa a tua mano va a cagliare 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 e ciò signorina per quanto tempo vi fermate dalla sicilina? il mio soggiorno felice durerà per tutto l'anno scolastico ma spero si potrà anche ancora di più oh signorina signorina a mia mi piacesse che a voi fossimo sempre cà davanti all'occhio i miei se volete potete restare cà o vi chiamate un domicino d'esta casa che fosse bello a così a mattina quando mi arrospegliasse a come vederse a voi a mezziorno quando mi mangiasse due piatticetto di pasta a come vederse a voi e a sera dell'osso scuro ha domassato la bandina e a come vederse e a come vederse a via sa di voi ma chi è? mi stavo dicendo quando sei fuori di cuore ma finisci le per la rammatula e poi signorina venite a sentare che la tavola è pronta signorina sei stato pescato tu mi hai cascato giù signorina voi che cosa preferite? petto o la coscia? veramente gradirei la petta fucking non è ti ha un po' per i ha due per l'argo è permesso bene 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 bene